Quattro giorni e mille chilometri da Firenze a Ostuni, con moto elettriche all'insegna di zero emissioni, il piacere della guida silenziosa, le bellezze d'Italia, protagoniste due motocicliste Lorena Bega e Valentina Bruno, che grazie alla collaborazione con il gruppo Telepass, patrocinato da Lega Ambiente e Save the Planet, hanno l'obiettivo di salvaguardia ambientale, l'ecosostenibilità, la tutela del territorio attraverso le tecnologie del futuro. Le tappe hanno portato le due motocicliste a Firenze e Bologna, e poi all'ospedale delle Tartarughe Marine di Riccione, e poi ancora lungo la Via Verde Costa dei Trabocchi, fino ai progetti di mobilità alternativa della provincia di Bari. Per oggi tappa sul trabocco punta alle morge di Torino di Sangro, col sindaco Difonso, il presidente di Lega Ambiente di Marco, a fare gli onori di casa. Per un motociclista è strano avere una moto silenziosa che non puzza, che non fa casino. Che non ti riscalda d'estate, soprattutto bellissimo, che non devi andare in giro così. La scoperta è che non emettendo vibrazioni e calore ti stanca molto meno, quindi anche se abbiamo fatto alla fine il primo giorno 280 chilometri, siamo arrivate bagnate come delle spugne, però non eravamo stanchi. Il tour si concluderà a Ostuni, nella sede del GAL, dove le due motocicliste racconteranno la loro esperienza. Dunque Giuseppe Di Marco, di Lega Ambiente, sottolinea il ruolo della mobilità del futuro. Oggi accogliamo qui in Abruzzo, a Punta le Morge, un tour unico nel suo genere, forse il primo, due donne con due moto importanti, completamente elettriche, quindi compiono un viaggio di mille chilometri a emissioni zero. Questo per dire che ormai l'innovazione elettrica è già realtà, non parliamo di futuro, ma di qualcosa che già esiste, che ci permette tranquillamente di muoverci all'interno del nostro territorio, ovviamente le accogliamo legandole anche alla nostra tradizione, al nostro valore aggiunto che è appunto la costa dei Trabocchi, da qui la scelta di visitare questo Trabocchi, al tempo stesso lo uniamo con le tipicità e i prodotti del nostro introterra. Come per dire, l'Abruzzo è un'unica esperienza che avvolge un turismo esperienziale di qualità sostenibile e che ci porta verso una destinazione sempre più verde della nostra regione. Sostenibilità ma anche promozione del territorio, in Abruzzo trionfa la ventricina accompagnata dal rose e mosso, donne, motori elettrici, ambiente, sapori, tutto bello di Lello dell'Accademia della Ventricina. Il turismo esperienziale, il turismo green che oggi va di moda e che si vuole proporre con questa manifestazione, l'abbiamo legata alla manifestazione di ventricine e bollicine nelle tre tappe che si è realizzato, Cerni, Pollutri e qui sul Trabocco, appunto a Torino di Sangro, vogliamo dire che l'esperienza su questo magnifico scenario che è la costa dei Trabocchi deve continuare poi a tavola con qualcosa di straordinario che è appunto oggi la ventricina, il simbolo secondo me dell'Abruzzo e le bollicine d'Abruzzo.